Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta sulla pagina Facebook di Picaia, il portale italiano dell'evoluzione. Io sono Chiara Ceci, faccio parte della redazione di Picaia e oggi abbiamo il piacere di poter chiacchierare con il nostro direttore, il direttore di Picaia, il professor Telmo Pievani, che è ordinario di filosofia delle scienze biologiche all'Università degli Studi di Padova. Buonasera, Telmo. Ciao Chiara, buonasera a tutti e a tutti gli amici di Picaia, sono molto contento di questo nuovo incontro. Benissimo, grazie Telmo. Salutiamo anche Stefano Dallacasa che oggi è alla regia, ci supporta nella parte tecnica di questo live e Stefano appunto è il caporedattore di Picaia. Allora, fatemi subito dire che salveremo questa diretta, rimarrà salvata, perché è la domanda più gestionata, ma la salvate, sì la salviamo. E anche se potete mandare le domande durante, mentre siamo live e poi se le postate dopo invece andiamo a recuperarle, per il professor Pievani, appunto mettetele nei commenti a questo video e noi arriveremo poi a rispondere, mandate tutte le domande che volete. Allora, Telmo, oggi siamo qui a chiacchierare con l'occasione della pubblicazione di un tuo libro, del tuo recente libro, ecco Stefano lo porta su, io ce l'ho in versione elettronica, appunto il giro del mondo nell'antropocene, una mappa dell'umanità del futuro, che appunto hai scritto insieme a Mauro Varotto, che è un tuo collega giusto all'Università di Padova, è un geografo. Esatto, un geografo, esatto. E anche poi con le mappe di Francesco Ferrarese, poi arriveremo a parlare delle mappe. È stato pubblicato poco fa, a novembre giusto del 2022, da Raffaello Cortina, editore, che fa sempre libri bellissimi, quindi ci piace ricordarlo. Allora, il libro appunto è scritto a sei mani, quindi c'è Telmo, Mauro Varotto e Francesco Ferrarese, che ha fatto le mappe nel libro. Ed è un libro che segue un altro che già avevate fatto, dove qui andate a vedere il mondo, quello di prima invece erano andati a guardare l'Italia. Però non è un libro classico, un saggio classico, ci sono linguaggi diversi, soprattutto la tua parte, che è narrata, non è un saggio appunto classico, come invece magari la parte di Varotto, che è più, diciamo, un saggio che potremmo aspettarci. Allora, raccontaci un po' dell'escamotage narrativo e anche dove è ambientato, nel futuro, magari dici in quale anno e perché avete scelto proprio quell'anno. Beh, molto volentieri. È a suo modo un libro evoluzionista, nel senso che racconta un'evoluzione. Il gioco, in questo caso, è di proiettarla sul futuro. Diciamo che il progetto nasce, proprio come dicevi tu, giustamente, dal mettere insieme linguaggi diversi. Io penso che sia molto importante nel fare comunicazione della scienza adesso e nel futuro, mettere insieme competenze e linguaggi diversi. In questo caso sono tre linguaggi. Il più importante di tutti è quello delle mappe. L'asse portante del libro sono le mappe, queste mappe bellissime di un mondo del futuro, un futuro molto lontano, ma plausibile. Adesso ci torno tra poco. Poi c'è il linguaggio della scienza, in questo caso è la geografia, la geografia umana e fisica di cui si occupa Mauro Varotto, che tra l'altro a Padova ha curato e aperto un bellissimo museo di geografia. Vi invito a visitarlo, bellissimo, con il mappamondi, mappe, eccetera. E poi c'è il mio, che in questo caso è scientifico però con la fiction, cioè è una narrazione fantascientifica sul futuro. Mi piace molto perché in questo modo posso anche introdurre un po' di giochi, di narrazioni e posso dire quello che voglio, prendere in giro chi voglio e però anche metterci dentro tanti contenuti scientifici. Il gioco è quello di immaginare un futuro apparentemente distopico, mettiamola così, cioè è passato tantissimo tempo, in questo libro siamo nel 2872, che non è una data casuale, ma è mille anni dopo la pubblicazione del capolavoro di Jules Verne, Il Giro del Mondo in 80 giorni, che uscì nel 1872. Lì c'è questo famoso gentleman inglese, tutto d'un pezzo molto freddo, Phileas Fogg, che decide di lanciare una sfida, una scommessa, per 20.000 sterline, di fare il Giro del Mondo in 80 giorni. Invece in questa c'è uno scienziato mio amico, che è fatto sul modello di un mio maestro, che lancia una nuova scommessa di fare il Giro del Mondo in 8 giorni, per un aereo a idrogeno, e spiegare al suo pubblico cosa è successo sulla Terra. Perché cos'è successo? È successo che non abbiamo fatto nulla per combattere il riscaldamento climatico, a differenza di quello che invece stiamo facendo, cioè tantissimo, cioè praticamente quello che sta accadendo adesso, e il risultato, ci racconta Mauro Varotto, è una fusione completa dell'Artico, dell'Antartide, insomma veramente il peggio possibile. Il mare si alza di 65 metri e quelle mappe che vedete, compresa quella in copertina con l'Europa, è proprio il mondo con il mare più alto di 65 metri. Ma non sono carte mappe finte, sono proprio fatte da Francesco Ferrarese con il calcolo esatto dell'altezza dei mari, e quindi con le coste, le isole, le penisole, la toponomastica tutta nuova, quindi davvero delle mappe verosimili di un futuro che nessuno ovviamente vuole, ed è chiaro che è tutta una sensibilizzazione anche sul tema ambientale appunto dell'antropocene. Sì, guardando le mappe, io se guardo quella dell'Europa, che appunto come dicevi è nella copertina, se ingrandisco, cioè io vivo in Inghilterra vicino a Cambridge, se guarda, io vivo adesso dove qua c'è il golfo del Buckinghamshire, dove c'è la G, cioè sott'acqua e dove sono io. L'altra cosa che mi ha fatto ridere, per realtà, c'è l'arcipelago dello Yorkshire, che è dove stanno i miei suoceri, appunto che loro sono molto indipendenti, La Scozia però è ancora attaccata, per quanto sia, adesso però questo libro, come dici tu, non è, queste mappe in generale, il libro guardano un futuro possibile che però nessuno vuole, però non è un libro che vuole essere apocalittico, la parte di Varotto che ci racconta tutta, un sacco di cose interessanti, magari dopo ne parliamo, di cose anche, a me hanno sorpreso tantissimo, di luoghi che non conoscevo, di storie che non conoscevo proprio, però non è un libro apocalittico, è, come dicevi tu, un invito a pensare da punto di vista globale, ambientale, ma è un invito ad agire. Qual è, se ci puoi dire magari fra voi autori, anche con il cartografo, mentre pianificavate questo, o anche quello prima sull'Italia, un po' le vostre discussioni su questo, cos'è che vi ha mostro, quali sono le motivazioni, cosa volevate suscitare nelle persone che leggono, per l'azione, non solo per questo senso di disperazione, che a volte ci viene, quando guardiamo una mappa di questo tipo. Eh sì, infatti, questo è proprio il punto. Innanzitutto lo stupore e la meraviglia, che sperimentiamo noi, quando vediamo le mappe per la prima volta, perché Francesco si mette lì, fa tutti i suoi modelli, tutte le sue simulazioni, e alla fine ci manda continente per continente le mappe. E quando le vedi, obiettivamente, appunto, come è capitato a te con l'Inghilterra, è impressionante, perché l'Inghilterra perde tutta la lista Anglia, cioè tu perde un sacco di pezzi. Poi, non so, la Cina perde il 20% del territorio, sparisce il Bangladesh, e il Golfo del Bengala arriva praticamente sotto la scarpata dell'Himalaya, che è impressionante. Il rio dell'Amazio diventa un gigantesco mare interno, gli Stati Uniti perdono la Florida e grandi pezzi degli stati del sud. Poi, a un certo punto, Francesco ci manda la mappa dell'Antartide, e lì abbiamo avuto una folgorazione, perché lì ha dovuto fare tutto un sacco di calcoli, perché ovviamente con la fusione di tutti i ghiacci, ovviamente c'è il mare che si alza, ma anche la terra che si solleva un pochino, quindi è dovuto calcolare tutto, e alla fine viene fuori un arcipelago bellissimo, una specie di Nuova Zelanda gigantesca, e infatti subito mi è venuto da pensare che quello dovesse essere il luogo in cui poi il viaggio deve finire, infatti l'ultimo capitolo è proprio su questo Antartide, popolato da questo popolo saggio, che è riuscito a trovare un modo di isolarsi dal mondo, di sopravvivere alla catastrofe, quindi il primo effetto è quello proprio visivo, io adoro le mappe perché le mappe proprio, cioè non hanno bisogno di parole, le guardie sono piene di storie, non c'è bisogno di aggiungere nient'altro, poi però ogni mappa è associata a una storia di Mauro, e alcune sono veramente impressionanti, tipo i campi profughi in Africa, che ormai hanno 250.000 persone, sono lì da 20 anni, quindi sono diventate delle città, sono diventate dei nuovi insediamenti giganteschi, più grandi di Padova, tipo 250.000 abitanti, oppure il lago Daral, questa storia è incredibile, questo lago che non è stato profligato tanto dal riscaldamento climatico, quanto dall'utilizzo dell'acqua, dei due fiumi che lo riempivano, per le grandi piantagioni di cotone, già nell'Unione Sovietica, e poi dopo cotone che compriamo noi, a basso costo, quindi tutto è connesso, ovviamente anche questo è un messaggio, oppure Giacarta, che Mauro racconta i piani per spostarla, perché è già previsto che deve essere spostata, stanno per costruire una nuova capitale dell'Indonesia, nel Borneo, all'interno, sopraelevata, perché Giacarta, da qui ai prossimi 20 anni, le falde ormai si stanno riempiendo, verrà sommersa, non sarà più abitabile. Questo perché? Perché il messaggio di fondo, per risponderti, è un po' questo, non è la narrazione, tu vedi le mappe, vedi tutto questo, dici 2872, vabbè, figurati, è talmente lontano, non ci saremo, chi se ne importa. No, in realtà Mauro ti fa vedere che lì lo vedi esagerato, ma quello che ti porta a quella situazione sta succedendo esattamente adesso, cioè, sembra un libro sul futuro, ma in realtà è un libro sul presente, lui punto per punto ti fa vedere il cuneo salino che entra nelle coste, il mare che si solleva, la desertificazione, cioè sta succedendo adesso, quindi lì è estremizzato, ma in realtà è un libro che parla dell'oggi, quindi è un modo provocatorio per aprire gli occhi su quello che sta accadendo adesso, che è questo scenario di grande cambiamento ambientale, per cui l'uomo sta modificando il contesto ecologico, e adesso deve adattarsi faticosamente ai cambiamenti da lui stesso introdotti, questo è un po' il gioco, diciamo. Sì, hai nominato l'Antartida e poi ci voglio tornare perché l'ultimo capitolo è uno di quello che mi ha interessato di più, mi ha proprio, mi ha fatto pensare a tante cose, dopo ti faccio qualche domanda, però prima, so che questo libro si focalizza su l'Europa e dall'Europa in su, cioè non sull'Italia, però voglio farti una domanda, perché hai parlato di Giacarta, voglio farti una domanda allora su Venezia, un caso come Venezia. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Perché noi ci sono, abbiamo tutti questi progetti per provare a tenere l'acqua giù, riqualificare, cosa, so che fa parte dell'altro libro, ma cosa possiamo dire su situazioni come Venezia, dove abbiamo un patrimonio storico artistico che ovviamente noi vorremmo salvare e salvaguardare, però con la visione globale dove abbiamo tutte, se io guardo alle coste, pensiamo alle coste degli Stati Uniti, tantissime città farebbero da sollevare e portare altrove. Allora, moralmente, anche cosa è giusto fare quando abbiamo altre situazioni e più difficili? Una tua riflessione anche appunto magari filosofica su questo, perché è veramente una, è difficile, no? Andare un po' a sgrogliare questa matassa di cosa vogliamo fare, cosa al cuore ci dice di fare, salvare San Marco, e cosa invece magari è giusto, è pratico, è, in realtà, è la cosa migliore da fare. E sai, questo è proprio ciò di cui si occupano Varotto e i miei colleghi, proprio questi modelli, no? E il tema delle città, ovviamente, è cardine, perché, prima ho dimenticato di dire una cosa importante, quando noi diciamo, per esempio, che un paese perderebbe il 20% del territorio, come nel caso dell'Italia, sono sempre i territori costieri con città, le città più popolose e le pianure, quindi sono in realtà, e la proporzione magari è minoritaria, ma in realtà la popolazione coinvolta in questo innalzamento dei mari è la stragrande maggioranza, quindi devi immaginarti spostamenti di popolazioni colossali. Anche questo sembra fantascienza, ma è presente, perché le Nazioni Unite hanno calcolato, hanno ricalcolato recentemente che a causa del riscaldamento climatico da qui al 2050 circa 220 milioni di persone saranno obbligate a lasciare i luoghi in cui vivono a causa della desertificazione di tutti gli effetti del riscaldamento climatico, quindi è un processo gigantesco che è in corso adesso. Noi vediamo soltanto dei piccoli pezzettini di questa storia che ci riguardano direttamente e molto egoisticamente, ma dietro c'è un fenomeno globale. Nel caso delle città c'è proprio questo dibattito adesso in corso. Noi nel libro precedente l'Italia sommersa, l'Italia dell'antropocene appunto, si vede benissimo come praticamente tutta la pianura padana si riempie di acque basse che arrivano fino a Lodi, quindi i milanesi finalmente in 20 minuti arrivano al mare anche se è un mare tutto melmoso, però insomma si perde tutto il nord-est, Padova sott'acqua, il mare fino a Udine, eccetera, eccetera. Venezia ci siamo immaginati sommersa e che vai a visitarla con dei sub e del turismo subacqueo. Perché? Perché ovviamente lì l'inalzamento è di 65 metri, quindi non c'è Mose che tenga. Però diciamo che noi ci siamo immaginati questa situazione che non facendo nulla per il riscaldamento climatico, come dire, gli esseri umani abbiano tentato di tamponare per un po' la situazione, il Mose che cos'è? È un tentativo di tamponare la situazione, di proteggerla, ma noi sappiamo già che rispetto a quando il Mose è stato progettato già è in ritardo di un centimetro, di un po', perché nel frattempo il mare si è alzato, quindi tra un po', tra un po' tanto, ma insomma tra un po' sarà di nuovo da rifare, da rialzare e così via. Quello significa tamponare, che è una strategia deludente, comunque un po' miope, che però un po' sta girando come idea ed è quella che Mauro Varotto critica molto, cioè questa idea che sta un po' girando che dice vabbè ma noi con le tecnologie ne verremo fuori, no? È solo con le tecnologie, questa visione un po' salvifica, un po' miracolistica delle tecnologie, bombarderemo le nuvole, cambieremo il clima per via tecnologica, argineremo appunto, faremo dei grandi argini alle città. Quello che noi sosteniamo nel libro è che questa visione, come dire, rischia di essere un alibi per non fare tante altre cose che sono più difficili, perché implicano cambiare i nostri modelli di sviluppo, di consumo, di vita e affidarci ancora una volta alla scienza e alla tecnologia che ci salvano, all'ultimo magari. Questo è molto pericoloso, anche adesso si sente ancora dire sì, vabbè, ma non preoccupatevi, tanto poi facciamo la fusione nucleare, tanto poi riusciamo a fare la fotosintesi artificiale, eh sì, però chissà quando riusciremo a farle, se le facciamo nel 50, nel 60, nel frattempo la Terra si è scaldata di 3 gradi, il che non è molto bello. Quindi l'idea è non bastano le scienze e la tecnologia, anche se sono fondamentali, serve un cambiamento profondo nell'economia, nel mitigare la sovrappopolazione, ovviamente che è fondamentale, nel fare tanti interventi per ridurre l'impatto umano sul pianeta. Queste sono le due grandi filosofie, no, che oggi si confrontano, l'ha scritto anche Nature recentemente. uno è quello di chi vede la transizione solo glamour, ha scritto Nature, cioè green economy, innovazione, benissimo, ma poi ha scritto Nature, c'è la parte non glamour, che è ridurre i consumi, non sprecare, non consumare suolo, vivere in modo più sobrio, risparmiare energia, e questo non è glamour, ci piace molto di meno. Mi è piaciuta questa distinzione che ha fatto Nature. Sì, in effetti, ringrazio Stefano che ha messo sullo schermo alcuni commenti che mentre tu parlavi erano stati già erano già ritenuti nei commenti, c'è quello di Giampaolo che appunto parlava di questa cosa, queste soluzioni tecnologiche di cui tu hai parlato, magari dopo ci torniamo, e anche Cristiana che invece parlava della sovrappopolazione. E colgo un attimo l'occasione appunto per ricordare a tutti che potete mandarci ovviamente domande, commenti, scriveteli come commento a questo video, noi li vediamo e poi arriviamo a rispondere alle vostre domande. E salutiamo tutte le persone che ci hanno salutato prima. Parliamo dell'Antartide perché come ti dicevo è stato il capitolo che mi ha interessato un po' di più. e tu appunto parli di quando la tua parte soprattutto quando parli dell'Antartide racconti di quando arriva lì in questo viaggio e trova questa società meravigliosa con un presidente microbiologa giusto, questa società illuminata di gente fantastica che dice ci voglio andare dove vado subito però appunto questa è una specie di arca di noi appunto per l'umanità però c'è anche l'altro versante della medaglia quando pensiamo all'Antartide oggi molto prima che si sciolga tutto eccetera già lo stiamo ci sono dei rischi di cui forse non si parla leggevo settimana scorsa su The Conversation parlavano del turismo in Antartide in particolare e come si è sfruttato tantissimo diceva che quest'anno ci andranno centomila persone in più veramente tantissime tantissime persone e di come soprattutto tu perché vai in Antartide ci vai perché vuoi vedere quei paesaggi oltre agli animali vuoi vedere quei paesaggi del nulla non è che vuoi vedere una fila di persone come si vede adesso sull'Ebrest dicevano appunto nell'articolo come le barche le navi coreografano l'arrivo in modo che se loro siano dietro un iceberg aspettano che l'altra nave si coreografano veramente a questi movimenti perché se no il turista perde quella esperienza diciamo per cui paga tra l'altro un sacco di soldi perché è un turismo veramente di lutto di cui appunto tu parli un po' nel libro ecco non so tu cosa ne pensi sia ovviamente se ci racconti di questa parte di cui è scritto sulla iperaustralia come la chiami tu nel schelantastide è la calotta che non c'è più quindi la terra sotto l'iperaustralia e poi di questo problema del turismo che adesso arriva in queste zone una volta inaccessibili e che andrà a creare forse più problema perché quei soldi delle crociere io non so se verranno veramente rimbestiti in un'economia che aiuti poi l'ambiente si si questo è un tema che io ho deciso di mettere nella mia parte di narrazione perché mi faceva gioco per il tipo di storia che volevo raccontare quindi anche per rispondere a Giampaolo è vero il gruppo che io immagino va con un aeroidrogeno quindi noi ci siamo immaginati con Mauro tante soluzioni tecnologiche innovative ovviamente ma proprio in quel gioco che dicevamo prima cioè abbiamo trovato soluzioni tecnologiche ma non siamo stati non sono stati in grado di evitare l'innalzamento a 65 metri quindi non ha funzionato quindi proprio per sostenere la tesi che dicevo prima il tema del turismo mi interessa molto perché il personaggio è ispirato a Ian Tattes che è un mio grande maestro che lavora all'American Museum di New York ed è tutto vero quello che c'è scritto nel senso che quando io lavoravo con lui all'American Museum ma poi ne avevamo discusso tante volte insieme Ian aveva avuto questa idea che io ho sempre trovato geniale facciamo il turismo scientifico cioè questi ricconi che pagano nel Museo di Storia Naturale chiediamogli se vogliono venire insieme con noi andiamo alle Galapagos andiamo sulla Reef Valley andiamo in Australia o magari in Antartide li facciamo pagare tanto ovviamente perché usiamo poi questi soldi per il museo però loro si fanno un giro turistico molto bello con uno scienziato che gli racconta davvero le cose e gli fa capire davvero cosa stanno vedendo un turismo scientifico un turismo più lento più sui contenuti e mi ha sempre colpito questa cosa e so che lui ci ha provato qualche volta ha fatto qualche crociera e ha tentato poi la cosa è fallita perché è troppo costoso non è andata avanti allora io mi immagino che lui invece lo faccia quindi proponga proprio questo e l'obiettivo è arrivare in questa iper-Australia che ho immaginato perché è una parodia degli iperborei questi popoli che già i greci immaginavano fossero felici e che abitassero nell'estremo nord questa volta sono iper-Australia perché abitano nell'estremo sud però è molto ironico perché poi lì io mi immagino appunto questo popolo che si isola dal mondo non fa più trapelare comunicazione perché si salva proprio nell'unico continente che rimane vivibile abitabile e impone anche in modo non democratico delle politiche a favore dell'ambiente e salva il contesto ecologico perché è un paradosso perché riguarda due grandi temi secondo me che noi avremo nei prossimi anni uno è loro sono un popolo privilegiato e quindi non è giusto quello che succede perché l'ho immaginato così perché dobbiamo evitare assolutamente secondo me che passi l'idea come c'è in Italia spesso si dice ma anche in Inghilterra so che si discute di questo che l'impegno ambientalista sia un impegno per radical chic per persone ricche che se lo possono permettere mentre quelli che devono mettere insieme il pranzo con la cena non hanno tempo di pensare all'ambiente questo è un discorso molto pericoloso perché invece quello che dobbiamo fare noi è far capire che l'impegno ambientale è di tutti che ci salviamo tutti e non si salva nessuno e soprattutto che è una grande questione di giustizia e di eguaglianza perché noi sappiamo dei dati scientifici che gran parte del costo di quello che sta accadendo del riscaldamento climatico sarà pagato proprio da chi ha di meno dai popoli dalle nazioni nella fascia equatoriale tropicale che notoriamente non sono i più ricchi e da chi ha contribuito pochissimo al problema io trovo che sia veramente ingiusto che l'ottanta per cento del costo del riscaldamento climatico come è stato detto alla copp a Shalme Sheik sia pagato da chi ha contribuito per meno del 5% alle emissioni questo è di un'ingiustizia pazzesca no? inaccettabile ecco perché ho giocato su questo popolo appunto privilegiato che si salva perché tutti vorremmo farne parte ma se invece non ne fai parte stai dalla parte sbagliata e sfortunata della storia quindi è un po' questa l'idea e poi appunto il turismo come dici tu che è uno la mia storia inizia proprio dicendo che il turismo è il flagello dell'umanità e che il turista è una specie invasiva e lo penso un po' perché mi è capitato prima della pandemia di stare di fare una una serie di visite in alcune riserve africane e sono rimasto impressionato perché io io ingenuamente pensavo di andare a visitare una natura incontaminata da vergine difficoltosa e così via in realtà mi sono trovato dentro dei torpedoni di turisti in coda con gli animali che si mettono lì in mostra che sanno benissimo gli orari di passaggio con i ranger che la mattina presto passano e se vedono qualche scena brutta la tolgono perché non è bello da vedere poco disneyano ecco mi ha fatto molta impressione questo perché è veramente un modo artefatto innanzitutto di avvicinarsi agli animali poi non è non è per niente autentico non c'è dietro nessun contenuto ed è veramente spettacolo fine a se stesso quindi quel tipo di turismo veramente mi ha e poi è un turismo appunto per ricchi perché nel momento in cui per dormire in un lodge sullo cavango adesso ti chiedono 1500 2000 euro per notte è chiaro che quella è una cosa proprio per super ricchi ecco discutiamone di questo forse come qualcuno faticosamente sta facendo potremmo ripensare quel tipo di turismo e fare un turismo un po' più intelligente meditato lento e sui contenuti non soltanto sullo show fine a se stesso certo vedi che ci sono dei commenti di persone che sono d'accordo con quello che stai dicendo e su appunto questo Katrin dice molto bello questo commento sull'equità sociale dal punto di vista della tutela ambientale allora voglio un attimo fare una pausa per ricordare di che cosa stiamo parlando per chi si è collegato dopo allora siamo con il professor Telmo Pievani dell'università di Padova e stiamo parlando del suo libro Il giro del mondo nell'antropocene una mappa dell'umanità del futuro se vi siete persi il video fino adesso potete poi recuperare l'introduzione tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso ricordo che appunto potete mandarci domande vedo che ne stanno già arrivando un sacco di commenti il mio preferito Telmo è quello di Rosa che dice che comprerà il libro perché è interessante e costa meno di quello del Principe Erri capito? anche i diritti che abbiamo preso io e Varotto sono molto meno di quelli che ha preso il Principe Erri non ne farete una serie Netflix immagino di questo allora io avrei altre domande e però vedo che ce ne sono alcune e ce n'è almeno una che ho vista quella di Fabio mi sembra che si collegava al tema delle copse Conference of Artists di cui tu hai già menzionato quella l'ultima quella del clima di Shaman Shake e Fabio in particolare si chiede la pandemia ci ha fatto vedere una pandemia è stata più efficace di tutte le copse messe insieme lo abbiamo capito ma col fallimento è così? è una bella domanda è vero che è stata più efficace delle copse perché le copse hanno dato finora risultati veramente molto deludenti lo sappiamo ormai gli accordi di Parigi sono saltati un grado e mezzo non ce lo toglie più nessuno ed è molto molto difficile che staremo sotto i due gradi quindi questa è la dura realtà che dobbiamo dirci l'imperatore è nudo no? questo è prima o poi ce lo diremo però possiamo ancora fare molto per stare o sotto i due o comunque è intorno ai due e anche quello non lo stiamo facendo quindi sono d'accordo però se poi vai a vedere i dati questo è impressionante anche il paradossale effetto positivo della riduzione di emissioni durante la pandemia ce lo siamo già mangiato dopo quindi è stato un 4% quindi è stato persino quello insufficiente rispetto a quello che dovremmo fare questo ci dà l'idea del grandioso impegno che dovremmo avere nella riduzione delle emissioni no? e anche di questa assurda corsa dell'economia lineare cumulativa che abbiamo adesso per cui finita la pandemia cosa abbiamo fatto? ci siamo messi a correre ancora più veloci di prima per recuperare ma sempre col modello economico lineare e di consumo e di accumulo precedente anzi peggio di prima no? e questo per rispondere a Fabio anche in un altro modo secondo me è la questione che riguarda noi evoluzionisti anche epicaia quello che io lamento tantissimo è che un fenomeno come quello della pandemia è stato e continua ancora ad essere adesso ad essere affrontato solo come un'emergenza solo volta per volta nessuno ci fa un discorso per farci capire bene che le pandemie sono un fenomeno ecologico cioè hanno delle ragioni ecologiche ben precise sono un fenomeno evoluzionistico sono una dinamica evoluzionistica darwiniana allora se noi non capiamo questo non riusciamo a mettere nella giusta prospettiva quello che sta accadendo per cui anche i vaccini che sono una benedizione li abbiamo ottenuti in nove mesi ma se due vaccini sono la metà ricca del mondo l'altra metà Darwin ci insegna diventa un un amplificatore di varianti del dei virus e quindi tornano poi nell'altra parte quindi dobbiamo continuare a fare vaccini e continuare a questa corsa della regina rossa no? tra noi e loro questo cosa chi ce lo insegna? ce lo insegna l'evoluzione l'ecologia invece cosa ci insegna? ci insegna che tu hai voglia tutte le volte a trovare un vaccino per carità lo faremo però ci vogliono un po' di mesi per trovarlo e se la prossima sarà ancora più contagiosa e con un livello di mortalità più alto in quei mesi lì intanto che troviamo un vaccino quante persone muoiono allora se tu fai questo discorso etico ti accorgi che devi fare molto altro per esempio devi fare ricerca di base evoluzionistica sulla biodiversità adesso finalmente lo stiamo facendo io dico perché non abbiamo fatto 15 anni fa quando David Comen ha pubblicato spillover e alla fine di spillover dice ragazzi studiate i pipistrelli studiate la biodiversità dei pipistrelli studiate la biodiversità dei virus dentro i pipistrelli quante ricerche abbiamo finanziato su quel filone lì pochissime adesso ce ne siamo accorti ahimè dopo la tragedia e finalmente sei mesi fa è uscito su Nature il viroma dei coronavirus in Cina adesso è uscito dove si scopre dal viroma da questa libreria genetica di tutti i coronavirus cinesi che ce ne sono 5.000 noi finora ne abbiamo conosciuti più o meno qualche decina ce ne sono 5.000 e questo ti fa capire quanto siamo ignoranti quanto la biodiversità sia molto più ampia di quanto non sospettiamo e che avremmo dovuto farlo prima e questa è ricerca di base io voglio sottolineare sta cosa uno dice perché devo darti dei soldi per fare una libreria di tutti i coronavirus adesso spero che l'abbiano capito perché dovevano dare i soldi di ricerca di base perché se tu hai una libreria e ne salta fuori un altro che ci fa uno scherzo del genere e tu sei già pronta la libreria è molto più veloce capire che bestia è e lavorarci e trovare un vaccino è questa lungimiranza che ci manca secondo me che è proprio legata alla ricerca di base se avessimo studiato vent'anni fa un po' meglio il sistema immunitario dei pipistrelli avremmo imparato un sacco di cose molto utili che ci sarebbero state utili e poi l'ultima cosa che aggiungo per rispondere a Fabio se noi studiamo l'evoluzione e la tecnologia e scusami l'ecologia nelle pandemie capiamo finalmente bene che la cosa più intelligente che potremmo fare per il futuro non è solo prepararci a reagire alla prossima ma ridurre la probabilità che succeda cioè ridurre il rischio e come si fa a ridurre il rischio con l'ecologia devi smetterla di deforestare combattere combattere seriamente il commercio illegale di animali esotici che è il quarto commercio più ricco al mondo delle mafie internazionali dopo le armi gli esseri umani le droghe ci sono gli animali abolire wet market cioè queste sono azioni di ecologia che ridurrebbero non a zero perché è impossibile ma ridurrebbero la probabilità di un'altra pandemia quindi io difendo questa cosa che quando si discute di questi temi anche gli evoluzionisti e gli ecologi dovrebbero avere un po' più di voce e non soltanto chi affronta la questione dal punto di vista ovviamente importantissimo di tipo medico epidemiologico e così via grazie abbiamo un sacco di riflessioni interessanti che poi se andremo a vederci i commenti ci sono persone che appunto stanno commentando ci sono anche alcune domande ma ci sono tanti commenti a quello che dici una persona a Ginevra chiedeva riferimento dell'articolo che citavi prima delle azioni glamour non glamour poi ti rispondiamo Ginevra quando ha finito vado sulla pagina e ti metto il link non ti preoccupare Ginevra su questo ho fatto un video per il Bo Live che è questo web magazine dell'Università e se fai la ricerca per parole lo trovi subito l'ho commentato lì ok allora ti metto il link anche di quello dopo Ginevra così poi lo vedono tutti grazie Telmo sono state menzionate prima le COP le Contra e Soul Parties appunto tu hai parlato di quella Shaman Shake l'anno scorso quella di Glasgow era stata qui in Gran Bretagna voglio farti una domanda una riflessione mia che ci occupiamo di comunicazione della scienza perché quelle del clima le COP sul clima perché di COP ce n'è tante ci sono quelle sul clima e poi ci sono per esempio quelle sulla biodiversità c'è quella di Shaman Shake che è stata sul clima di cui almeno qui in Inghilterra ne parlavano tutti 24 ore al giorno tutti i giornali tutte le radio era una cosa continua ovviamente io sono nella mia bolla delle persone che subito ma effettivamente alla televisione la BBC ne parlavano tutti proprio alla radio sui giornali meno ho visto un po' meno sull'altra COP quella che c'è stata in Canada sulla biodiversità e io credo che questo racchiuda un po' ce n'è stato qua ne hanno parlato sicuramente però molto meno non so in Italia però era tutti i giorni dicevano cosa succedeva però se guardo quella di Shaman Shake sono andati anche i primi ministri era molto profilo molto altro in quella della biodiversità c'era solo Trudeau ed era in Canada quindi spero bene anche che non è andato dal punto di vista politico insomma non c'è andato nessuno che veramente gli desse della visibilità politica io credo che si parla molto di più di clima ultimamente che della crisi della biodiversità che ovviamente sappiamo che sono legate la stessa cosa però sono due temi che hanno degli aspetti diversi su cui quando andiamo a vedere le soluzioni possibili ci sono anche delle cose che potremmo fare che effettivamente parlando di una piuttosto che dell'altra l'ascoltatore può decidere di fare delle scelte cioè tutti possiamo decidere di volare meno di comprare meno carne rossa o altre cose le cose che compriamo o comprare meno in generale però quando si tratta della biodiversità ci sono per esempio cause che possiamo sostenere tante cose insomma che sono un po' diverse dal grande dibattito del clima ecco io dal punto di vista della comunicazione di come viene trattata la crisi della biodiversità rispetto alla crisi climatica anche tu noti questa cioè non è più solo il panda in estinzione c'è una complessità che poi va a connettersi con la pandemia ovviamente poi c'è anche la crisi climatica però anche tu noti questa simmetria e insomma secondo me è un problema ed è un problema legato ovviamente alla struttura mediatica ma anche al fatto di quali sono i temi che tirano e adesso sembra che tiri più il clima piuttosto che la biodiversità non scatto cosa ne pensi sì sì sono totalmente d'accordo nel quadro che fai è proprio quello che sta succedendo tra l'altro aggiungo che è un vero peccato proprio rispetto a questa volta qua perché da Charles Messey che per carità è uscito al solito documento finale molto annacquato un paio di novità il fondo di cosiddetti aiuti ma non sono aiuti sono risarcimenti su ciò che è stato sul danno e sulle perdite avuti dai paesi appunto che soffrono di più dell'iscaldamento climatico ho visto positivamente anche se ne è discusso molto finalmente il cosiddetto sud globale global south si è fatto sentire con una certa energia unito forte quindi un po' di cose si stanno muovendo ma se tu vai a vedere l'avrai fatto sicuramente il documento finale invece della cop 15 sulla biodiversità beh quello è tosto quello è fatto bene ci sono tutti quei nuovi target che includono finalmente l'economia la finanza i risarcimento c'è tutta la parte sul 30% di superficie terrestre da proteggere per la biodiversità cioè finalmente un documento firmato da tutti e scritto come si deve che ti fa capire veramente l'importanza della posta in gioco certo c'è sempre la solita questione che non sono impegni vincolanti per me quello è fondamentale cioè adesso tutti stiamo parlando del fatto che il protocollo di Montreal dell'87 sta avendo l'effetto desiderato di riduzione della chiusura dell'espansione del buco dell'ozono sì però quello era un protocollo vincolante fin dall'inizio cioè diceva ragazzi bisogna cambiare le filiere industriali dei gas cloroforo carburi chi non lo fa è fuori da questo protocollo e ne paga le conseguenze hanno aderito prima un po' poi alla fine si sono aggregati tutti se l'accordo non prevede dei costi per chi non obbedisce non aderisce è chiaro che è un grosso problema infatti se non altro questo è un fatto positivo in quello sulla biodiversità a differenza di quello sul clima hanno aggiunto che d'ora in poi ogni volta che ci si rivede ci si rivede a partire da un monitoraggio quantitativo e dei risultati ottenuti nei due anni precedenti nell'anno precedente anche questo è importante cioè ci vediamo tra un anno ma vediamo cosa abbiamo fatto in questo anno nel frattempo cos'è successo stiamo andando avanti stiamo andando indietro finalmente c'è questo elemento della misura e del monitoraggio che è molto importante quindi hai ragione tu è un vero peccato perché secondo me mediaticamente sarebbe stato quasi meglio seguire ancora di più la COP15 in Canada proprio per questi elementi di novità che ci sono stati poi come dici tu certo la comunicazione lo sappiamo ha dei brand adesso il brand è quello del clima però quello che dovremmo fare noi è far capire come dicevi tu che sono questioni intrecciate fortemente in tutti i sensi e che la biodiversità è non soltanto la nostra vita ma è il grande tema del futuro perché da lì dipende tutta la questione One Health cioè la salute globale che dipende dalla salute degli ecosistemi della biodiversità c'è il tema dei servizi ecosistemici che fino adesso non paghiamo e continuiamo a non pagare ma tra un po' li pagheremo perché diventeranno più scarsi e quindi più rari più preziosi insomma io lavorerei oggi sul mix di linguaggi e proprio sul comunicare le connessioni noi l'abbiamo fatto un po' anche con la fabbrica del mondo con Marco Paolini trovare delle narrazioni per esempio come abbiamo fatto lì tu guardi tu vedi una scena di deforestazione in Amazzonia in Congo la guardi e dici cosa connette questa scena che stai vedendo tu con le persone che non riescono a respirare dentro una terapia intensiva dice c'entra niente no io ti faccio vedere che in 3-4 passaggi come sono collegate queste cose oppure se io deforesto sto aumentando il rischio pandemico sto distruggendo la possibilità di sequestro di CO2 quindi sto contribuendo al riscaldamento climatico e sto distruggendo i posti dove c'è la più alta biodiversità la stessa azione ha conseguenze su tutto quello che sta accadendo quindi quando diciamo che tutto è connesso non è una roba vaga per dire che viviamo tutti no è una cosa precisa che noi dovremmo fare vedere nella comunicazione della scienza proprio con i dati e con la precisione di queste connessioni che ci riguardano quindi io io questo farei sempre con uno sguardo evoluzionistico nel nostro caso certo di come connettiamo di come discutiamo di questi temi secondo me diventa diventa poi dove le soluzioni nascono è lì che dobbiamo dobbiamo lavorare tra l'altro mentre parlavi dell'amazzone così mi viene mi è venuta in mente ti ricordi quando quando siamo stati in Ecuador che siamo andati nel mezzo della foresta amazzonica in un post improbabile con queste barche incredibili e ci siamo trovati in questo villaggio proprio ai bordi del fiume dove c'era questa riunione in cui parlavano era la costituzione giusto stavano discutendo della loro nuova costituzione in particolare qualcuno sarebbe dovuto andare a votare quindi era proprio questa democrazia in atto però di quella costituzione poi c'è da dire che quando uscì poi approvata c'è l'inizio della costituzione dell'Equador che parla proprio della terra madre non la pace a mamma che secondo me è una cosa bellissima quelle persone nell'angolo più remoto dell'amazzonia con questa connessione viscerale alla terra che noi forse un po' abbiamo perso che però dobbiamo recuperare per vedere queste connessioni di cui tu adesso stavi parlando tra l'altro ci ho ripensato recentemente perché è diventato un movimento cioè il piccolo stato dell'Equador con tutte le sue difficoltà con le lotte che c'erano ti ricordi perché stavano scavando le strade per i pozzi petroliferi in Amazzonia stavano distruggendo e così via è un movimento che è andato avanti perché poi anche la Bolivia ha fatto una scelta simile introducendo nella costituzione il fatto che lo stato la nazione tutela l'ambiente come diritto fondamentale e tanto tempo dopo nel 2022 ci è arrivata anche l'Italia visto che l'8 febbraio dell'anno scorso la costituzione italiana è stata cambiata a grande maggioranza l'articolo 9 è la prima volta dalla dopoguerra che è un articolo fondamentale della costituzione viene cambiato ed è molto bello che venga cambiato per raggiungere queste quattro parole che sono ambienti ecosistemi biodiversità nell'interesse delle future generazioni che messo in costituzione è veramente qualcosa di molto innovativo perché le future generazioni non sono un soggetto di diritto non essendoci ancora chi sono chi le rappresenta chi però è stato messo e questo è molto importante perché è uno slancio fondamentale perché quello è un testo non è una legge è un testo al quale dovranno conformarsi tutte le leggi del futuro quindi questo è un piccolo elemento di speranza che abbiamo noi in Italia nel senso che d'ora in poi chiunque viene approvato una legge del Parlamento uno può chiedersi sentite ma rispetta l'articolo 9 della Costituzione che c'è scritto che dobbiamo proteggere la biodiversità ecosistemi ambienti nell'interesse delle future generazioni cioè questo è uno strumento nuovo che è perché è stato appena introdotto che i costituzionalisti mi confermano può essere molto potente anche come leva democratica di controllo quindi la paciamama in Ecuador e molto tempo dopo ci è arrivata anche la Costituzione italiana benissimo tu mi senti Telmo mi scriveva Stefano dalla regia ok il microfono benissimo allora abbiamo avuto un sacco di commenti e domande io vorrei so che alcune sono commenti più che domande però volevo parlare se ad un certo punto qualcun altro aveva parlato della sovrappopolazione prima Cristiana mi sembra ma Ivana qui chiede economisti e politici considerano il calo demografico come una criticità ma non è invece il contrario è un tema difficile Telmo lo so però non possiamo non parlarne magari abbiamo ancora un quindicina di minuti e ci sono alcune domande magari proviamo a affrontarlo e dicci un po' tu cosa ne pensi certo si si beh riguarda un po' anche il mestiere nostro di evoluzionisti ovviamente essendo il nostro successo demografico darwiniano il grosso problema di cui discutere se ne è discusso un po' in Italia immagino anche altrove quando a metà novembre abbiamo superato la soglia fatidica degli 8 miliardi noi a Padova abbiamo un gruppo di demografi molto bravi che lavorano proprio su questi temi qua e confrontandomi con loro insomma ho condiviso spesso questi pensieri ci sono dentro un sacco di paradossi proprio giustamente Ivana fa notare questo il primo paradosso è che noi spesso guardiamo la crescita demografica come un valore assoluto abbiamo superato gli 8 miliardi attenzione perché bisogna guardarci dentro e se ci guardi dentro è ancora peggio perché non è soltanto una crescita assoluta è una crescita anche squilibrata nel senso che hai certe zone del mondo che sono in denatalità e altre che esplodono quindi non è soltanto una crescita quantitativa in sé ma è anche una crescita così squilibrata che genererà spostamenti di popolazione genererà instabilità conflitti regionali e poi non soltanto quindi è davvero qualcosa di molto molto pericoloso al di là dell'impatto ambientale di per sé e poi c'è l'altro paradosso che ci insegnano i demografi difficile da risolvere ogni paese considera la denatalità un problema compreso l'Italia una tragedia perché siamo in denatalità il che è vero per ragioni economiche geopolitiche eccetera ma il paradosso qual è? che se tutti facessero questo ragionamento tutte le nazioni dovrebbero invece continuare indefinitamente ad aumentare la loro popolazione e questo sarebbe ancora più insostenibile quindi qual è la verità? cioè se siamo in denatalità è qualcosa di negativo o è qualcosa di così quindi vedi che è un paradosso di per sé a me piace sempre ricordare che la storia ci insegna i demografi la scienza demografica ci insegna l'ha scritto anche Massimo Livivacci un grande demografo italiano in un libro recente c'è un solo modo che conosciamo democratico per affrontare questo tema e si chiama libertà e autodeterminazione delle donne in tutti i posti del mondo dove c'è crescita economica crescita del benessere e ci sono i diritti fondamentali delle donne la curva demografica rallenta e poi diciamo non è che va in denatalità però va sotto controllo torna sotto controllo quindi alla fine la ricetta è lì sta tutta lì nella libertà di scelta e di pianificazione familiare sì c'era un commento prima sempre di Cristiana che diceva sarebbe meglio chiamarlo riequilibrio demografico che solo investendo sull'autodeterminazione femminile potrà avvenire esattamente esattamente il punto che hai fatto tu benissimo c'era un'altra domanda no ce ne sono tante c'era la domanda di Evelina mi sembra che Stefano aveva messo già in eccola qui come dici sempre tu dice Evelina che quindi ti seguirà magari conosci Evelina Amoroso non siamo cognitivamente pronti a guardare al futuro in fondo tutti capiamo però poi ci giriamo che speranza c'è insomma dice la Iperi Sapiens di diventare un essere veramente proiettato al futuro è una bellissima domanda guarda io la penso io ti risponderei come risponde Darwin Darwin è l'origine dell'uomo c'è un passaggio bellissimo dove discute nel capitolo quarto e quinto della natura umana e così via e ha appena spiegato tutti i limiti che abbiamo noi umani perché spiega Darwin siamo tribali la nostra socialità è stata una società per piccoli gruppi e quindi spiega questa cosa importante che oggi abbiamo confermato tantissimo che noi siamo molto bravi a cooperare e a sentirci uniti e a lavorare per un obiettivo comune ma dice Darwin con chi riconosciamo come simile a noi come appartenente alla nostra tribù e il paradosso è che la nostra tribù è in conflitto con altre tribù e quindi la stessa ragione per cui cooperiamo dentro la tribù ci porta a essere sospettosi aggressivi tendenzialmente con chi non riconosciamo come appartenente al nostro noi spiega questo concetto molto bello molto importante che poi è stato ripreso da Edward Wilson da tanti altri studiori però poi come ogni tanto aveva questi slanci di ottimismo dice però c'è un però noi abbiamo le facoltà superiori della mente umana siamo capaci di astrazione quindi dice Darwin possiamo sperare che in futuro saremo così bravi da capire che il noi è stata la tribù per tanto tempo ma poi potrebbe diventare tutto il nostro popolo poi dice Darwin potrebbe diventare tutta la specie umana poi potrebbe diventare la specie umana e gli animali e poi la specie umana e tutti gli esseri viventi quindi si immagina questa idea di un cerchio morale che si allarga a me piace moltissimo questa idea perché è tipico di Darwin siamo figli dell'evoluzione e ci portiamo detto tutti i nostri dettagli però l'evoluzione ci ha dato anche delle capacità di immaginazione di astrazione di giudizio morale che sono tipicamente umane quindi la speranza è quella quindi è vero come Verina dice e studiamo tutti noi non siamo lungimiranti abbiamo un'etica della prossimità ci impegniamo moralmente solo se abbiamo ragionevole sicurezza di vedere i risultati qui e ora del nostro impegno se io ti chiedo invece un impegno per chi ancora non c'è o per chi è ancora lontanissimo il nostro entusiasmo si spegne quindi questo è il nostro limite però come diceva Darwin c'è l'immaginazione c'è la capacità astrattiva quello slancio che abbiamo noi Sapiens di immaginarci il futuro e di costruire cattedrali come piace sempre dire a me questo dibattito che c'è negli Stati Uniti viene chiamato cathedral thinking il pensiero delle cattedrali che vuol dire è vero che non siamo lungimiranti però qualche volta ce l'abbiamo fatta a fare le cattedrali e quando facevamo le cattedrali chi cominciava a farla sapeva benissimo che non l'avrebbe vista finita cominciava faceva un pezzo la generazione successiva ne faceva un altro poi la terza forse la vedeva finita ci siamo riusciti qualche volta a fare le cattedrali il progetto Apollo è stata una cattedrale ogni tanto riusciamo a fare delle cose dei progetti che implicano un lavoro continuativo per 20-30 anni ecco il climate change la difesa della biodiversità è una cattedrale cioè bisogna lavorarci adesso sapendo che poi ci lavoreranno la generazione prossima e poi quella dopo forse vedrai i risultati questo è lo sforzo che dobbiamo fare è un problema complesso per cui non ci sono soluzioni semplici ci saranno soluzioni complesse fatte di tanti elementi di cui ne abbiamo parlato prima la tecnologia sarà un elemento probabilmente un elemento importante e vedo che ci sono alcuni altri messaggi su questo c'era Mario che diceva che bello quello che ha detto il professore a proposito della fiducia nella capacità futura della tecnica di salvarci mi fa pensare un po' ai scienziati i sacerdoti del pianeta delle scimmie e legato a questo c'era la domanda di Giampaolo che uso per complicarsela ulteriormente lui parla della Polaroid quindi di un'azienda che conosceva il passaggio che stava venendo dalla logica digitale eppure avendo investito nella nuova tecnologia non è riuscita a riorganizzare la struttura aziendale interna e ha perso la leadership di mercato e lui qui la usa per chiederti cosa impedisce ai governi cosa impedisce ai governi il cambiamento pur conoscendo il futuro disastro io complico la domanda dicendo non solo ai governi ma anche alle aziende alle imprese che sono fatte da tutti noi perché te lo chiedo perché sempre di più i governi ovviamente noi votiamo e possiamo decidere chi votiamo però anche i politici quello che promettono è sempre fino a prossima elezione giusto quando invece però noi nella nostra vita di cittadini lavoriamo lavoriamo per un'azienda o siamo magari dirigenti di un'azienda lì ci sono impegni che noi possiamo avere e provare a cambiare tante cose io lo so vedo dove lavoro io le aziende e anche le generazioni nuove che vengono guardano quali sono i valori dell'azienda e se tu non hai una sostenibilità devi averla fa parte proprio della responsabilità corporativa corporate responsibility devi averla quindi il cambiamento c'è ci deve essere con questa lungimiranza con i politici è un po' più difficile forse da sbrigare secondo me tante soluzioni saranno nella leadership industriale perché il cambiamento lì si inizia a vedere perché è mosso poi dal dal basso da chi ci lavora da chi compra le azioni da chi compra i beni che queste aziende producono non so tu cosa ne pensi Telmo? sì sì mi piace molto sono d'accordo con te vedo anch'io la stessa cosa a me è capitato recentemente abbiamo fatto era un grosso convegno a Padova per gli 800 anni con il mondo imprenditoriale abbiamo fatto tutta una serie di indagini e una domanda era immagino che il pubblico era di grandi imprenditori bene ti sai questi super e la domanda era quando è che avete deciso di impegnarvi in modo serio per i temi della sostenibilità se se vi impegnate e la cosa incredibile la maggioranza delle risposte è stata beh quando c'hai un figlio una figlia che ti torna a casa che ti rompono le balle per l'acqua e per la spazzatura allora lì ho capito che forse dovevo impegnarmi per la sosta cioè non mi aspettavo una risposta cioè questi imprenditori praticamente si sono trovati il problema in casa con la generazione nuova e hanno capito che erano un problema importante per la loro azienda che può sembrare un po' riduttivo però mi ha colpito molto sta cosa cioè che come dici tu cioè lì c'è un tema di brand di difesa di appunto di responsabilità interna di percezione pubblica di immagine ovviamente e quindi sì c'è questa questa dinamica in corso lo penso anch'io lo vedo anch'io lavorando con le aziende quello che però diceva prima mi ricordo Giampaolo è un po' diverso nel senso il caso della Polaroid è un caso noto nell'evoluzione tecnologica di canalizzazione no? cioè a volte le aziende fanno fatica a uscire da un canale nel quale si sono infilate perché questo richiede dei costi ci sono dei competitor e così via a volte addirittura hanno successo anche tecnologie vecchie come il caso della tastiera QR che per esempio è un famoso esempio di canalizzazione è molto diverso secondo me invece il caso della politica lì non è che l'insensibilità al cambiamento è dovuta a fattori di questo tipo ma è dovuto proprio a un problema intrinseco che dicevi anche tu cioè che la politica oggi è legata a un consenso che si misura in settimane mesi ed è una con una volatilità pazzesca tra l'altro del consenso per cui si spostano i voti in modo molto più veloce e allora è chiaro che hai l'ossessione del consenso permanente c'è addirittura quando non so hai appena vinto le elezioni hai davanti a te tempo per governare sei ancora lì che ogni settimana guardi se nel sondaggio stai andando su andando giù questa è una deriva è una patologia perché voglio dire parlo proprio del caso italiano un governo che è lontanissimo dalle mie idee però ha vinto le elezioni in teoria ha davanti cinque anni e stanno pensando al consenso dovrebbe essere il momento in cui pensi a delle azioni i cui effetti magari si vedono tra un anno tra due anni tra tre anni ma non ci riusciamo neanche in questo caso qui quindi vedi che è chiaramente un problema di classi dirigenti ed è proprio un problema della politica non ci sono più gli statisti però anche qua li abbiamo avuti in passato non è che è proprio impossibile averli cioè abbiamo avuto in passato gente che ha detto ragazzi sapete cosa c'è? entro questo decennio andiamo sulla luna ve lo dico non perché è facile ma perché è difficile beh quello lì nel bene e nel male con tutti i difetti del mondo era uno statista perché ha dato un progetto continuativo è morto lui sono stati cambiati i presidenti cambiati i presidenti della nasa è cambiato di tutto ma ci sono arrivati alla fine però qualcuno dice aggiungo solo questo commento ci sono riusciti perché avevano un nemico l'unione sovietica noi non ci riusciamo perché non abbiamo un nemico questa è una giusta osservazione dovremmo capire che il nemico stavolta siamo noi e quindi siamo noi stessi il nemico da sconfiggere c'è la nostra mancanza di lungimiranza e quindi è molto difficile è un po' come nel film Don't Look Up che immagino abbiate visto tutti solo che la cometa siamo noi e quindi è un po' più difficile sì 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 quello che dicevi un po' delle cattedrali del progetto dell'andare sulla luna ci sono esempi di questo tipo prima ridevamo del commento sul libro del principe Henry l'altro fratello il principe William invece ha un progetto che si chiama Earth Shot il progetto di Kennedy era Moon Shot andare alla luna lui invece ha questo progetto dove ogni anno dà un milione di sterline o di dollari a diversi sono cinque mi sembra nelle cinque milioni che dà ogni anno a dei progetti che davvero cambiano qualcosa nelle varie comunità per esempio quest'anno uno di quelli che ha vinto è basato qua in Inghilterra e sono dei chimici che hanno sviluppato delle pellicole delle alghe che usano i take away quindi ci sono piattaforme tipo Just Eat che tu con l'app ordini il tuo cibo ti arriva però non ti arriva in un contenitore di plastica che poi butti verrà riciclato è biodegradabile insomma soluzioni vere reali parte dell'economia insomma che davvero puoi sperimentare sulla tua pelle siamo allora termo quindi vorrei un attimo chiudere però voglio voglio chiudere in positivo perché appunto io ci sono dei commenti vedevo su questo c'era Michele che diceva che ha paura della scala dei tempi umani che sia troppo breve perché molti capiscono cos'è il cambiamento climatico la crisi in generale è come quella sorella della rana che viene cucinata lentamente esattamente però lui dice confido nelle nuove generazioni e qualcun altro prima mi sembra che lei diceva affidiamoci a questo timismo e il tuo libro appunto il libro che hai scritto il giro nel mondo della trofocene con Mauro Varotto ha questa questa spinta dietro dell'essere ottimisti perché per troppo tempo secondo me nel movimento ambientale nella comunicazione della crisi ambientale si è parlato della crisi e di quanto era era buio insomma del doom and gloom come si dice tutto tutto finirà male moriremo tutti che ovvio uno deve per sciogliere un po' il ghiaccio che ci sta sul cuore rispetto a queste tematiche insomma scrollare le nostre coscienze dobbiamo arrivare alla gente in qualche modo però arriva un punto nella curva diciamo della della comunicazione in cui la gente se tu gli continui tutti noi se contiamo se vediamo sempre i problemi non capiamo mai ma io cosa ci posso fare nella mia vita di tutti i giorni non vediamo mai le soluzioni non vediamo con ottimismo non abbiamo queste storie positive andiamo in in shut down invece che attivarci parliamo di questo di questo essere ottimisti di come c'è tutto un movimento dell'ottimismo per non perché siamo illusiche ma dobbiamo essere positivi e soprattutto il ruolo delle nuove generazioni perché tornando alla politica un po' io darei il voto ai ragazzi perché loro saprebbero chi vota cioè i ragazzi sotto i 18 anni perché loro secondo me quando vedono un programma politico che non parla davvero di certe cose non va bene ci devono essere certi temi nei programmi ecco cosa ne pensi talmo sì sì totalmente d'accordo mi piace molto questa impostazione allora sulla curva di attenzione è molto giusto perché sai che è stata studiata proprio veramente così cioè se tu insisti su una comunicazione monocorde di quel tipo si crea il paradosso dell'azione collettiva cioè alla fine c'è una suefazione tale che ti porta alla rassegnazione e quindi il pubblico dice il sentimento diventa vabbè ma è una cosa talmente grande talmente gigantesca complessa io cosa posso fare io niente sono del tutto marginale il paradosso qual è che se lo pensano tutti poi non facciamo veramente più niente quindi non cambiano le cose quindi succede proprio così future generazioni sono sempre il motivo fondamentale per chi come me può lavorare in università è fondamentale e uso proprio l'esempio che facevi tu di questi che hanno vinto il premio con la pellicola di alghe ora se andiamo non conosco il caso specifico ma quella pellicola di alghe oggi noi potremo farla con quel finanziamento avrà un costo competitivo la potremo realizzare non si scioglierà mentre porti il cibo alle persone a casa eccetera perché abbiamo avuto un avanzamento tecnologico che renderà possibile quella tecnologia quell'avanzamento tecnologico vent'anni fa non era concepibile non era immaginabile questo è il punto fondamentale secondo me cioè quando io vado in università penso al fatto che quello su cui sto lavorando io adesso il gene editing CRISPR che ne so l'elenco è lunghissimo chi c'era prima sulla cattura mia non se l'è neanche immaginato non aveva neanche gli strumenti per immaginarlo ok questo è successo e succede normalmente allora penso sempre vabbè ma allora i ragazzi che mi arrivano al primo anno in università le matricole nei loro occhi ci sono dentro delle scoperte che io adesso se voglio essere umile e onesto non posso neanche immaginare posso mettermi nella loro testa ma non riuscirò mai a immaginare cosa scopriranno loro questa è la vera speranza la serendipità della ricerca della scienza cioè il fatto che non puoi prevedere quello che loro riusciranno a fare tra vent'anni rispetto a quello che facciamo noi questa e questo è un ottimismo razionale non è un ottimismo perché vogliamo essere ottimisti è sempre successo così dovrebbe essere razionale che succeda anche questa volta cioè tra me e loro tra vent'anni ecco se no mi piace finire in questo in modo un po' positivo perché se guardo le mappe che vedo sul tuo libro invece come ti dicevo io sono già sott'acqua allora prima di concludere voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno guardato in diretta quelle che hanno mandato domande commenti ad alcuni non abbiamo non siamo riusciti ad arrivare a rispondere ad alcuni abbiamo promesso link quindi torneremo c'era una persona che aveva chiesto metterete il webinar sul canale di youtube di piecaia sì allora ovviamente rimarrà salvato sulla pagina di facebook dove state guardando adesso poi la scaricheremo e la mettiamo anche su youtube quindi i da paola poi lo puoi mangiare mangiare è ora di cena mandare a tutti i tuoi amici la pagina di piecaia su facebook comunque è pubblica quindi anche chi non ha un profilo facebook può guardare le cose allora telmo ricordiamo il libro di cui abbiamo parlato e comunque che abbiamo usato come spunto per tante discussioni veramente interessanti questa sera il giro del mondo nell'antropocene una mappa dell'umanità del futuro appunto Telmo Pievani Mauro Varotto e poi con le mappe di Francesco Ferrarete quindi tre diversi viaggi intorno al mondo che potete o tre volte intorno al mondo che potete andare scoprendo appunto queste queste riflessioni di cui in parte abbiamo parlato oggi allora Telmo ti ringraziamo allora ringraziamo Stefano ringraziamo Stefano della casa che appunto ho fatto funzionare tutto e grazie Telmo speriamo di poter chiacchierare ancora buona fortuna con il libro so che farai altre presentazioni in giro per Italia anche in persona quindi se tenete d'occhio picaia picaia.eu il portale italiano dell'evoluzione trovate spesso anche presentazioni che Telmo fa magari o eventi che ci sono in giro per l'Italia grazie Telmo grazie alla prossima spero alla prossima a presto a presto a presto a presto a presto